Oh ciao amici, volevo scusarmi se martedì non ho fatto uscire alcun video, ma ho avuto delle vacanze anch'io e purtroppo contro ogni aspettativa non sono riuscito ad editare il video Ma per farmi perdonare oggi giovedì vi porto un altro tipo di video, non è sull'America ma su Pasquetta dove siamo andati al mare E sempre per farmi perdonare domenica mettete la sveglia alle 11 perché uscirà un altro video Non un episodio della serie in America ma sempre qualcosa che c'entra con l'America questa volta Io più che raccontarvi l'intro dato che avrete già letto il titolo direi di far partire il video, anzi facciamolo partire insieme Guardate che casino c'ho, devo mettere anche a posto Ok, play Dov'è che andiamo? In Bulgaria Bulgaria, è in Bulgaria Tutti in Bulgaria dai Comunque Davino, Panek, un vlogger, c'è la presa di la videocamera appena fa un gatto Andiamo a leader di classe ora, mettere la bella pedina Siamo arrivati al mare, c'è un po' di freschino però Sta bene, ma c'è il momento più bello, quello più emozionato di quando si va al mare E' quello più buono La piadina del leader di classe E' la più buona che esiste questa Dovete venirci Un altro normale di crescione con salsicco C'è la zucca, patate e polla Un crescione per il Wester Gliadina cote fontino Una cruda coquerone Altri tre cote fontino E un crescione con l'altro, sì, c'è le patate E una pedra non quella Ah, io e Grandre abbiamo abbandonato il gruppo perché stiamo andando a fare spese adesso E andiamo a prendere le provviste di una mezza giornata Niente, pensavamo di essere solo noi oggi in questa giornata di Pasquetta Però c'è un voto di gente C'è più gente ora che l'estate E' 15 agosto Ma che bravo, ricci Io voglio Ora risolviamo Perché cos'è? Non, non, no No, non, no 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 Ragazzi giuro No veramente Finita anche questa giornata qua al mare Incredibile Incredibile Sono le 6 cosa è finita Ah ma più o meno Ma non è finita Diciamo che ci aspettavamo un po' di caldo Un po' meno gente E' stato tutto il contrario oggi Guardate com'è d'accordo con noi Buongiorno Aria di casa Aria di casa Questa roba qua Abbiamo even comprato una porta Che bello Oh grazie 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 Vivi vivi vai corri corri nel campo vai Santella Come fa Luis? Poi stanno guardando i porno Non voleva essere delle panare così cari Sei da piedi però Tutti i sensi di colpi No 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 Non faccio i calzoni per favore Dai volevo stare al buio Buongiorno Di quel cos'era Una granata Vecchio Non ho avuto un'idea No Hai delle dichiarazioni da fare È un cazzo da dire Ma non lo so Quando i cancelli sono mainstream Ottimo La prossima destinazione di questa giornata Interessantissima Sarà un barettino per un aperitivo Stai vogliendo per due ore di mare Sì dai Voglio vedere se viene qualcosa Un bambino per un piccolo A Sì dai A A A A A A A non so ma non so non so non so cosa stai grazie facciamo ma più venisono di come io dai dai come me dai 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 con alcuni allenamenti non mi dai non mi dai adesso vien giù il battone guarda per la macchina ah ah dai che batti lo credito fuori zio ci 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 divertiamo ok 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 le bravi ecco siamo arrivati stasera mangio qui al ristorante sembra buona il salutare è fallito ti tratti male buoni ecco le mie vongole dei spaghetti buone ai miei sono più belle buono il pesce è buono è vuoto ragazzi 11 di sera e via ciao l'idea di classe è stato bellissimo per quanto breve ma intenso devo dire siamo dietro guarda che bel ragazzo ciao andro no dai è stato un piacere ciao frankie oh robin grazie mille buonanotte ragazzi ciao 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 Grazie a tutti